Musica Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici e oggi stringiamo il nostro obiettivo su un'associazione che si trova in via in pezzo a Udine sono con la Presidente Erika Cosettini e la Presidente dell'Associazione Amigdala Ben trovata Buongiorno Allora Cosettini, dobbiamo dire intanto il nome, che cos'è Amigdala? Che cosa significa? Amigdala è una parte del cervello che è deputata alle nostre emozioni quindi molto importante a livello dei nostri comportamenti e dei nostri pensieri quindi la scelta del nome è stata ben ragionata e pensata perché insomma poi tutto quello che noi facciamo attraversa e si occupa anche di emozioni Ecco, a che cosa serve e che cosa fa Amigdala? È un'associazione che si occupa dal 2009 a Udine di benessere a 360 gradi per le persone poi per buona parte delle attività che noi facciamo ci occupiamo delle donne in particolare e del loro benessere quindi ci occupiamo delle varie fasi di vita sicuramente della fase pre-parto, della fase post-parto quindi per le mamme, per le mamme e i loro bambini ci occupiamo di diverse attività e quindi ci teniamo insomma a lavorare sullo stare bene insieme in famiglia Come stanno le donne oggi? Le donne hanno voglia di uscire di casa e di stare bene con i propri figli sicuramente ci sono dei problemi legati anche alle opportunità o meno lavorative quindi molte donne ci dicono insomma che dopo aver avuto un figlio c'è qualche problema a conciliare lavoro e famiglia diverse donne rimangono a casa dopo la maternità proprio perché questo è molto difficile c'è voglia di condividere tra di loro quindi anche le occasioni che noi proponiamo di stare insieme ad altre mamme è proprio l'occasione di condividere quello che succede anche tra le quattro mura di casa quindi possono essere gioie ma anche le difficoltà di avere un bambino quindi è molto importante rendersi conto che non si è sole La donna oggi è un po' più autonoma rispetto a qualche anno fa? Sì, è più autonoma e ha voglia anche di essere autonoma quindi anche i percorsi per riscoprire la propria forza sono molto importanti quindi oltre ad esempio le attività che noi facciamo con le mamme le facciamo anche con insomma donne anche più adulte proprio di percorsi, proprio di riscoperta della propria forza interiore la forza non è solo quella dei muscoli ma anche la forza della determinazione, dell'affermazione di sé in famiglia o anche al lavoro quindi sono percorsi molto importanti anche di riscoperta di se stessi Corsettini, ma ci sono ancora donne sottomesse? Forse sottomessa è un'etichetta generalista però ci sono donne che possono essere in difficoltà vuoi per anche retaggi culturali vuoi insomma per difficoltà che una si porta dietro insomma dall'infanzia quindi ci sono ancora donne in difficoltà diciamo che è una fetta della popolazione che è un po' più sommersa quindi magari è una cosa che emerge dopo uno non racconta subito di senso ma di essere in difficoltà quindi è una cosa che può emergere più in un contesto individuale ecco Chi passa da voi? Passano sicuramente donne di diverse età sicuramente la fetta è quella tra i 25 e i 45 anni proprio perché ci occupiamo molto di donne nella fascia materno-infantile insomma a livello culturale è vario insomma ci sono quindi diversi tipi di cultura, di base insomma tutte donne che comunque vogliono stare bene e vogliono stare bene insieme ad altre donne Una donna autonoma è sempre forte, sempre più forte? Ma non è detto non colleghiamo l'autonomia con la forza perché a volte certo sono percorsi che si incrociano ma a volte sono anche indipendenti sicuramente la forza non è raggiungere e ottenere l'autonomia la forza è anche riuscire a stare bene nel gruppo e anche fare le cose in cooperazione e collaborazione la forza è comunque utilizzare la determinazione per stare bene con gli altri quindi a volte sono cose che vanno anche separatamente Senta Cosettini Noi abbiamo visto l'8 marzo pioggia, una pioggia di mimose ci sono una cifra di donne che vengono anche dalle nostre parti maltrattate come mai? Beh purtroppo c'è ancora molta strada da fare insomma per fortuna in questi ultimi anni se ne parla di più e quindi insomma è più possibile diciamo far emergere queste problematiche anche perché magari i maltrattamenti non sono solo quelli evidenti delle percosse del pronto soccorso per intenderci ci sono maltrattamenti psicologici che iniziano insomma in modo più subdolo quindi è più difficile anche rendersi conto per chi è vittima di riconoscere una situazione del genere sono maltrattamenti che iniziano anche molto presto se pensiamo anche al bullismo nelle scuole quindi sono delle condizioni che sono più sommerse e purtroppo sono ben ancorate a certi insomma stati culturali ma anche della società stessa che insomma li fa passare ancora come riconosciuti ecco quindi c'è molta strada da fare la mimosa insomma fa solo pensare all'essere donna dell'8 marzo però bisogna rendersi conto anche negli altri 364 giorni dell'anno insomma quanto poi è importante l'affermazione dell'essere donna ecco a proposito di maltrattamenti in famiglia noi li abbiamo raccontati purtroppo nel corso di approfondimenti nei quali lei era presente penso a Friuli in giallo ma lo facciamo anche nei nostri telegiornali spesso le forze dell'ordine dicono possiamo intervenire solo quando succede qualcosa ma qualche volta quando l'agente di polizia o il carabiniero interviene è già troppo tardi sì spesso è troppo tardi è importantissimo lavorare sulla prevenzione quindi continuare a parlarne in modo che le donne si rendano conto di poter fare qualcosa prima di arrivare alla chiamata dei carabinieri bisogna rendersi conto prima quando una situazione ha raggiunto un certo limite è chiaro che ad esempio come dicevo prima per la violenza o maltrattamento di tipo psicologico è sempre più difficile da dimostrare quindi se vogliamo ricorrere a vie legali sicuramente è una parte insomma molto dolorosa e difficile però ecco l'importante è rendersi conto prima per decidere che non va più bene per noi una certa situazione quindi al di là delle vie illegali è importante riuscire a prendere le distanze per tempo prima di rimanere incastrate in una situazione spiacevole Senta, ma denunciano più, ovviamente lo metto con tante virgolette, volentieri o meglio o con più facilità le straniere o le italiane? Ma secondo me va un po' di pari passo c'è un'idea comune che i maltrattamenti o le violenze siano tra gli stranieri ma in realtà questo non è vero insomma nella nostra regione credo che le percentuali siano uguali insomma magari bisognerebbe chiedere i dati aggiornati in questura o dai carabinieri però ecco ci sono molte situazioni di violenza anche insomma tra corregionali e magari insomma sono situazioni insospettabili ecco perché avvengono tra le quattro mura di casa Nella vostra associazione ne è passata di qualche caso? Ne sono passati di casi di maltrattamento? Passano però magari sotto altre spoglie insomma non ci occupiamo strettamente insomma di maltrattamenti perché ci occupiamo in linea generale in modo trasversale del benessere delle persone, delle mamme, delle donne può capitare che qualcuna raccontando di sé racconti insomma storie passate o vissute di questo tipo Si sottovaluta secondo lei il maltrattamento o si fa fitto in un vederlo? A volte sottovalutato, a volte si pensa che non succeda più, a volte insomma che sia una cosa passeggera che sia un problema momentaneo e questo è il rischio, quello di far passare del tempo e non rendersi conto che invece è una cosa insomma che va via via ad aggravarsi La difficoltà poi di una eventuale vittima è quella proprio di rimanere un po' incastrata in quello che si va a chiamare la spirale della violenza perché dopo un maltrattamento, dopo una situazione difficile c'è sempre un momento di riappacificazione per poi ad arrivare ad una situazione più grave della precedente Senta Cosettini abbiamo ancora un minuto e mezzo Nel 2017 per che cosa volete caratterizzare l'attività dell'associazione Amigdala? Sicuramente rispetto ai progetti che noi abbiamo in porto è quello di dedicarci ancora di più alle neomamme perché ci siamo accorti che comunque è una parte molto importante dell'attività che ci viene richiesta perché le neomamme sono sole e al di là di prevenire delle possibili depressioni postpartum è importante comunque uscire di casa, condividere le proprie esperienze con altre mamme e poterlo fare con i loro bambini quindi vengono in associazione, in sede con i bambini e possono fare delle cose, attività, pratiche, teoriche o condividere solo il loro tempo per chiacchierare e già sentire di poter stare bene così Ancora una domanda Vediamo certi casi di persone in stato interessante volti piuttosto tristi dall'altra parte le ginecologhe dicono ma una che è incinta non è malata No, non è malata è una particolare condizione di vita che dovrebbe fare star bene ma a volte si sta male dipende un po' dalle condizioni psicofisiche che sono tante Ma cosa succede? Beh, dal punto di vista fisiologico è una faccenda ormonale che cambia completamente insomma il nostro modo di funzionare che è collegato anche alle emozioni, allo stato d'animo insomma a vari cambiamenti che sono su tutti i piani della persona quindi non solo fisici ma anche emotivi, cognitivi, posturali quindi ci possono essere degli acciacchi, vanno aggiustati quello che noi facciamo è accompagnare tutti i cambiamenti della gravidanza per riuscire ad accettarli, a stare bene nel periodo della gravidanza Erika Cosettini, grazie Grazie a voi, buona giornata Grazie a Cosettini, Presidente dell'Associazione Amigdala Grazie a Paolo Bassi Alla prossima e un saluto dal Lounge Bar della CDA di Fluminiano di Talmassons